Vedi l'avanzamento dell'offensiva di Putin, sia quella militare sia quella appunto sul gas? A che punto siamo? Ma, volevo riprendere quello che diceva il generale prima. Io Alberto, le guerre, abbiamo visto alcune guerre, voi forse più di me, io ho visto i russi in azione in Siria. Allora, dico una cosa orribile. Gli ucraini, che pur hanno subito già dei danni, dei morti, una distruzione che a noi sembra terrificante, perché questa è una guerra impossibile. Per noi era una guerra impossibile. Io dico che i russi in Ucraina hanno usato un millesimo della loro capacità distruttiva, non operativa, è un altro discorso. La loro operativa magari sono dei generali, sono degli imbecilli che hanno programmato male questa cosa. La capacità distruttiva dei russi è appena accennata. Ecco, forse Mariupol può essere un esempio di cosa possono fare. E non hanno ancora fatto. Infatti le artiglierie le stanno usando poco. Sia le artiglierie che... Esattamente, poi è il cuore della sistematica. Le stanno usando molto poco. Cioè, attenzione, ci state già dicendo una cosa importante, lo dico al nostro pubblico, ce lo dice il generale, ce lo dicono inviati che hanno visto la Siria. Ma quindi si sta andando con un filo di gas, come si dice. Cioè, in questo momento Putin non vuole affondare, ma potrebbe farlo molto di più. E allora perché non lo fa? Perché aspetta come... Cerca di portare l'Europa su un negoziato, e la Nato sul negoziato, e gli americani sul negoziato? Cioè, Michele Santoro ha aperto questa trasmissione stasera dicendo ma è come adesso, c'è la possibilità di fare un negoziato. Ma nessuno di quelli che contano davvero vuole farlo. Qui, Rico? Questa è una graduazione della pressione. Cioè, ogni giorno, ogni settimana, aumenta la pressione sugli ucraini. Probabilmente stanno saggiando per vedere qual è il loro punto in cui la resistenza si spezza, perché ogni esercito, come ogni struttura, ha una sua... come il cemento armato, il ferro, ha il suo punto in cui premi, premi, si spezza. Ma credo che il problema sia un po' più grande. Cioè, ho un'impressione tragica, che è la doppia, secondo me, la doppia tragedia degli ucraini. Gli ucraini sono le vittime della guerra, ma nello stesso tempo ne sono semplicemente lo strumento, l'oggetto. L'interlocutore di Putin non è Zelensky. Zelensky, per Putin, è un suddito ribelle, uno che bisogna spazzare via. Questa è una guerra coloniale, per molti aspetti. No, una colonia che si è ribellata e adesso verrà punita adeguatamente. Zelensky non è uno che lui vuole incontrare. Ma cosa che gli importa di Zelensky? Questa guerra è un modo per mandare un messaggio a qualcun altro. Quello che Putin vuole, e lo dice esplicitamente da anni, io voglio una ridiscussione complessiva degli equilibri di potenza in Europa e nel mondo. Perché la Yalta che è venuta fuori dall'89, che è una Yalta che è nata da una autodissoluzione, non conta più, non c'è più, non funziona più. Io ho ricostruito la potenza, almeno militare, di quella economica a Putin. Putin non ha mai promesso ai russi di farli diventare ricchi. Gli ha promesso di farli diventare di nuovo potenti. E allora che il mondo li temesse. Allora l'interlocutore è un signore che si chiama Biden, non l'Europa. L'Europa è un altro non soggetto per Putin. Putin ha ragione in termini di forza, di brutalità. Io sono di nuovo forte. Ciò, le bombe termo non so che cosa, i carri armati più grossi di quelli che ce l'aveva Brezhnev nel 1980, posso fare molto male. Allora l'equilibrio di potenza che avete imposto alla Russia a seguito della dissoluzione dell'URSS non funziona più. Io voglio un tavolo in cui c'è Biden, il cinese e io e ridiscussiamo i rapporti che porta tra noi. Gli equilibri complessivi. Certo.